3 miliardi di vite umane si spesero il giorno 29 di agosto del 1997. I sopravvissuti dell'ontrasto nucleare chiamarono quella guerra il giorno del giudizio e sopravvissero solo per affrontare un nuovo il mondo, la guerra contro il mondo. I sopravvissero I sopravvissero I sopravvissero I sopravvissero No non potevino I sopravvissero La guerra contro il lancero I sopravvissero I sopravvissero I sopravvissero I sopravvissero E sui I sopravvissero I sopravvissero Grazie a tutti 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 Grazie a tutti